Ciao a tutti, oggi prepareremo i paccheri in crema di funghi, speck e noci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono paccheri, sale, pepe, parmigiano grattugiato, olio evo, aglio, speck, granella di noci, funghi misti, latte, gherigli di noce e prezzemolo tritato. Andiamo via alla ricetta. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Mettere nel boccale l'olio e l'aglio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale, aggiungere i funghi, il pepe e il sale. Ed azionare il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. eliminare un po' d'acqua di cottura e prelevare qualche fungo per l'impiattamento. Versare il latte e frullare per 30 secondi a velocità 6. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere lo speck e la granella di noci. Ed amalgamare per un minuto, anti-orario, velocità 2. trasferire nella ciotola con la pasta ed amalgamare con il parmigiano grattugiato il prezzemolo tritato e impiattare con garigli di noci e funghi messi da parte. paccheri in crema di funghi, speck e noci. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!